Ciao! Oggi vedremo la maglia del Real Madrid, la seconda maglia, in versione fan, quella dedicata ai tifosi, per la stagione 22-23, quindi la prossima, quella che deve ancora ricominciare. La maglia away del Real Madrid 2022-23 è viola. Il colore ufficiale utilizzato è light purple, che è presente anche sulla divisa casalinga 2022-23. Una sottile stampa geometrica, composta da piastre diagonali, appare sul davanti e sulle maniche. Adidas combina il colore principale chiaro con il Night Navi, un blu molto scuro, praticamente nero. Viene utilizzato per il colletto, i polsini delle maniche e tutti i marchi, incluso uno stema del club ricolorato sul petto a sinistra. Gli inserti in mesh sotto le braccia e la tecnologia antiabilità AeroReady assicurano il massimo comfort ai tifosi. Cosa ne pensate? Secondo me è molto bella, devo dire che la preferisco alla prima, anche se la prima ha un fascino incredibile, ovviamente è una maglia da avere. Mi ricorda molto una maglia del Barcellona nella stagione scorsa, trovate la recensione qui in alto. Comunque questa secondo me è più bella e nella mia classifica prende 4 stelle, incredibile, si trovi soltanto al costo di 12 euro e qualcosina in più. Trovate comunque qua sopra il costo. La maglia è fatta benissimo, i tempi di consegna sono stati incredibili, è arrivata in 14 giorni, quasi veramente incredibile. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per comprare la maglia e mi raccomando usate il link che trovate per sostenere il canale. Per oggi è tutto, prima di lasciarvi vi prego di lasciare un like e di iscrivervi al canale. Ciao! Io sono alto di 1,75 m e peso 70 kg circa, quella che vedete è una taglia media della versione Fan.